Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riprendiamo i lavori di consiglio con l'appello nominale. Grazie a tutti. Buon appinto al valore, Giannetto Pietro, Gampagotta da Tecchia. Grazie a tutti. 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 Dovremmo poterci affincare, per esempio, un libero consorzio che ha anche continuità territoriale e allo stesso tempo fare un'attività di consiglio. e fare un referendum. Grazie a tutti. 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 tutti gli effetti, impossibile la permanenza, se non va verrato, renderebbe tutto impossibile la permanenza di giardini nell'area metropolitana. Quindi oltre al vincolo geografico che secondo me rende i giardini più parte organica nel Catanese che non nel Messinese, avremo anche questa problematica ulteriore. I tempi sono strettissimi, mancheranno circa tre mesi alla decisione definitiva. Tutti i comuni auspicano una proroga di questi termini e sembrerebbe che probabilmente questa proroga venga concessa. Tuttavia io ritengo, mi dispiace, non c'è il sindaco stasera che sarebbe bene portare alla ribalta del Consiglio Comunale, all'attenzione al Consiglio Comunale, alla ribalta della cittadinanza in maniera più popolare il problema. Perché è veramente sentito e se dobbiamo prendere una decisione lo dobbiamo fare a ragione di tutta se saremo in grado di poterla prendere, se non ci saranno gli ostacoli che ho appena descritto riguardanti la continuità. Grazie. Sì, grazie Consiglio Dottor. Stiamo volendo riprendere il discorso e il suo intervento per quanto riguarda l'area melodopolitano, una nuova realtà che potrebbe nascere, ma già mi accorto il Consiglio e anche con gli altri colleghi consiglieri, già avevamo discusso l'opportunità di convocare un Consiglio al più presto, spero anche possibilmente entro questo mese per portare a conoscenza i colleghi consiglieri della cittadinanza, l'evoluzione che sta anche accennato verso il mio capo, sono diversi incontri che il Sindaco ha fatto con altri colleghi di tutta la ribera e anche oltre, anche sulla valle dell'Alcantara. Quindi al più presto convoceremo il Consiglio proprio ad hoc per questa tematica molto importante sulla propria, ci sono anche diverse voci, pare che possa anche andare avanti. Grazie. Prego, consigliassi. Grazie, sempre sulla cia, vorrei venire qui, mi ha presiduto il Consiglio, lo dico, grazie e grazie per la propria funzione, noi stiamo stati presenti in quella che io ho detto che in un modo molto legante ha descritto la legge 8 della quale in alcuni suoi non sono, come dire, mangiato nella legge, a meno di una legge che ci sono, le relazioni come no, il Comune della Orvina, la Giunta e il Consiglio hanno deciderato di volerli appartenere ai libri di Consorci, ma intanto penso che per il numero di abitanti abbiano necessità di farlo preparare il Consorci, allora hanno deciso la prima prima, non so che c'è l'intervento, io mi ricordo, dottoressa lei vorrebbe... Volevo andare... Il Consiglio è necessario per la costruzione di un libero Consorcio nuovo rispetto a... Di 180.000 Che abbia una... Che i Comuni con il numero inferiore... No, 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 il Consiglio è necessario, in tre volte che un Comune intende a costruire la legge ad un nuovo libero Consorcio, no, in questo caso, diciamo... Quanto riporta, indipendentemente dal numero di abitanti? Sì, bene, dottoressa lei. I Comuni che vorranno consumire questo nuovo Consorcio, perché sarebbe un nuovo Consorcio, dovranno avvertire il Consiglio, Consiglio, giunto e preparando un muro, quindi c'è una limitazione anche dopo. Poi, dico, altra cosa è che c'è un'interruzione territoriale sull'area medica solitana, perché penso che il Comune da Ormina scende fino al mare e quindi abbiamo un'altra problematica da affrontare, che non è di poco molto, perché l'interruzione territoriale non è consentita in questa, in questa, in questa, in questa fuoco. altra cosa è che volevo comunque decalare, perché a mezzo giorno, spero che sia di conoscenza un po' di tutti, siamo stati, siamo stati convocati dall'assessore da Filippo per discutere delle problematiche del lato, del buon lato, riguardo alla polizia del Paese. Io penso che siano stati convocati tutti i consiglieri domani, siamo stati presenti, grazie anche alla partecipazione del dottore Arturo Pallone che, diciamo, di condolizia di particolari ci ha espresso, ci ha evidenziato una serie di parametri che interessano il Comune. non eravamo tutti, per esempio, questo me ne riporto, perché quando si parla di interessi economici del Comune, che sono così grossi, perché in alto non è un gioco per noi, no? Siamo, abbiamo un aumento quasi di un milione di euro dell'importo annuale. E io direi, oltre all'assessore San Filippo che era presente, io ricordo quanto sono un po' hanno dato, perché la mia mente non funziona esattamente come si pensa, c'era il consigliere Cinghia, li cito tutti per il dovere Cinghia, il Garofalo, Costantino, il Stefano, il sottoscritto e penso che, e per Stefano, quando io mi citare, nonostante le sue dimensioni, mi era studiato. io penso che è un dovere civico che, per il resto del Consigliere Comunale, abbia una valenza maggiore, visto che... C'era l'assessore Garofalo, anche lui, distanza, 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 ma non... un po' di menti, un po' di menti di Garofalo. Io volevo rendere evidente questa cosa, e con tutti, il resto del Consigliere non si ne è vista volta, io non so di chi veniamo a parlare poi quando, quando realmente dobbiamo affrontare il problema, chi era presente può confermare, volendo a mente smentire, che il Dottore Valdone ci ha spiattelato sul tavolo i barati, i barati che sono quelli che non si possono muovere. Ed è stata mia iniziativa quella di rimorre una domanda, di riducere i confronti di valore. Ho visto che un esperto, dico, per risparmiare dei soldi non è che arriviamo noi da emetri estranei, che non sappiamo come funziona l'apparato e diciamo, risparmiamo così, votiamo questo, votiamo questo. Non è così che funziona. Quindi, gradirei che la prossima volta che fossimo tutti presenti, si premono che l'assessore se ne farà a carico di questo. Grazie Presidente. Sì, grazie Consigliere. Grazie. Prego, consigliere Cicchi. Io venirei al discorso del fatto di un collega stai mattino. Quindi quella riunione la trovavamo chiesti a noi, consigliere Cicchi e Lorenzo a queste cose. Perché, giustamente, abbiamo visto il problema che veramente esistono sul nostro territorio. Dott. Ma ecco la cosa più che quel giorno Dott. Balloni, quando io disse che il 27 novembre in questa sala consigliaria avevo chiesto la pesatura dei rifiuti che si prende nel nostro territorio del Presidente, il Dott. Balloni mi ha detto a me non aveva richiesto nessuno. Allora un consigliere mi chiede un dopo una cosa qua in sala consigliaria, viene distravegliata e non viene portata a conoscenza perché il sindaco non è a conoscenza di questa mia richiesta. L'assessore San Filippo non è a conoscenza della mia richiesta. Un consigliere che modo potremmo avere se giustamente gli uffici non ci danno la possibilità a portare le cose del nostro territorio. Perché giustamente io su quella richiesta di pesatura, nascendo il nuovo nasciturale, volevo proporre le mie idee come sviluppare la pulizia del territorio, che giustamente si doveva fare sui quartieri. Un consigliere può rivolgersi all'assessore e dire che il quartiere non è stato pulito. perché c'è un operatore che è responsabile di un quartiere. Così giustamente so che il sindaco ha dato un consigliere comunale di partecipare all'Aro, però il consigliere comunale se l'ha tenuto per lui ancora oggi a noi non ci mette a conoscenza di quello che succede. Perciò noi dobbiamo venire qua solamente in aula a posare quello che pensano gli altri. E io a questo gioco l'ora in poi non ci sto. Poi, la cosa più importante che volevo fare a creare è che stasera il consiglio comunale si arriva con un guido, dice la parte del consigliere, per il quattro sera della festa degli anziani. Ma dico, le istituzioni che sono in utilizzo, che sono responsabili e che sono state lette dai cittadini, devono venire dal consiglio comunale per vedere i problemi della città, non che poi si va al festino per rappresentarsi in questi festini. Sì, grazie consigliere. Ci sono altri interventi per comunicazione? Prego, consigliere. A tutti io di merito, diciamo, questa è la prima domanda che c'è stata l'altro giorno del lato. Non volevo interventarmi, diciamo, in merito perché avevo pensato qualche giorno di fare un consiglio comunale a Boc proprio perché le problematiche con la spazzatura del nostro territorio sono problematiche molto serie. Infatti questa riunione è nata perché in punti due di questo mese con firma di Stefano Lorenzo e il consigliere Cicla abbiamo chiesto con urgenza una riunione ad assessore con i responsabili dell'altro. L'assessore si è messo subito a disposizione e ha invitato 15 consiglieri di cui, come dice il collega Sterantino, io non presento solamente 4 o 5 consiglieri, quindi di questo, devo essere sincero, vedo che è facile andare a criticare poi sul territorio le problematiche che ci sono, però quando ci sono delle riunioni importanti, riunioni importanti perché con il direttore dell'altro ci sono toccate problematiche molto serie, problematiche che diciamo che noi riscontriamo giornalmente sul territorio e anche io di 10 giorni ci sono la numero dei milioni. Perchè inizia che la sicurezza di 10 giorni ci risolveranno determinati problemi, come lo spazzamento sul nostro territorio perché lui fa il suo dire che ci sono 27 unità sul territorio che spazzano le strade, a mio dire ce ne sono forse 2 o 3. lui dice che sono 27 e quindi dobbiamo preparare un piano di spazzamento su tutto il territorio dove si identificano le strade e si identificano quale giorno, diciamo, l'operatore deve passare in modo tale che anche i cittadini possano collaborare e verificare se su quella strada il giorno di chi si è stato assegnato passa l'operatore a spazzare la strada. Queste riunioni secondo me non devono essere fatte diciamo di tanto in tanto, sono riunioni che secondo me mentalmente ci dobbiamo riuscire per capire sistematicamente quali sono le problematiche. Questa riunione è nata principalmente per le problematiche che in questo momento ci sono regalate, regalate diciamo dove si può dire la zona elite del nostro paese, dove c'è anche la zona turistica, dove in questi giorni qua nel giro diciamo di un mese da 2.000 a 2.500 abitanti arriveremo a 15.000 abitanti. Quindi mi auguro che per come il direttore Vallone ci ha garantito che stanno operando per ampliare, per sistemare e per potenziali diciamo tutti questi servizi, mi auguro che in 10-15 giorni diciamo questi servizi saranno potenziali. Grazie. Signor Presidente, consigliere di Stefano, chiamato il consigliere Calogno. Buonasera a tutti. No, niente, volevo precisare una cosa sull'intervento di Stefano e dell'intervento del consigliere Scalantino. proprio ieri mi è stato comunicato che comunque queste convocazioni non sono state non sono animate ad alcuni consiglieri. Mi sembra strano che stamattina proprio, che stamattina proprio che sono venute in comune, ho chiamato praticamente chi notifica diciamo questi atti ai consiglieri, però siccome era di malattie in questo periodo, avrebbe, avrebbe diciamo, si sarebbe informato con chi c'era diciamo di servizio nei giorni, perché alcuni consiglieri che sono, quello che so io, diciamo, che mi hanno comunicato questo, e il consigliere Campagosta, il consigliere Cavana, e mi diceva che il consigliere Campagosta, anche il consigliere poi alla fine non l'avvio, praticamente, non è stato modificato, questo non è stato modificato. Mi sembra strano, scusi consigliere, però se l'intervento, perché sei stata modificata insieme alla compagazione del consiglio comunale, quindi mi sembra quanto stranissimo due documenti che camminano insieme, uno c'è e uno no, mi sembra molto strano. Comunque, non entriamo in polemma, lo stegano questo, c'è la relata, vedremo un po', domani verificheremo ancora. Perché io, giustamente, ho detto quello che ha detto il consigliere Scalantino, che nelle riunioni importanti non c'è mai la presenza, diciamo, dei consiglieri, mi smentiva che, diciamo, questa mia necessitazione, quindi devo prenderlo in valore perché, giustamente, però ho detto, diciamo, a un vestito comunale, una persona di Cassanato, che desideravo sapere se era stato notificato oppure bene, quindi a giorni saprò che, diciamo, quindi posso rispondere alla consigliera Campagosta, se effettivamente è così oppure no. Grazie. Sì, grazie. Io esisto su questa cosa perché mi sembra, ripeto, strano che viene modificato un documento di convocazione portato al Consiglio Comunale insieme a questa convocazione di una riunione, quindi una si vede e l'altra no, è troppo strano questa cosa, voglio modificare personalmente. Quindi, vabbè, domani abbiamo le notifiche, quindi con le firme, se consegna mani proprio, se viene consegnata per via travesta, questo lo verificheremo subito domani mattina, signor Monti. Grazie. Ci sono interventi per le comunicazioni? Prego, consiglio. Assente giustificato, consiglio. Grazie. Grazie. Vabbè il primo punto all'ordine del giorni, approvazione liberpati, le sedute precedenti. presa d'atto per la decadenza della carica del consigliere Salvatore Sterrattino surroga del consigliere di Gavuro Sterrattino approfessione verbale in sedute precedenti interrogazione del 3 marzo interpellanza mozioni approfessione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del Rostro Valden approfessione programma di ennale opere pubbliche annuale 2014 approfessione del piano di reazione e valutazione immobiliare anno 2014 regolamento presenzialiare sosta destinata alle operazioni di carico e scarico mergine al centro abitato regola delibera di consiglio comunale normalmente il 25 maggio 2013 approfessione nuovo regolamento per l'assegnazione e autorizzazione per il programma di servizio turistico convegno ed ipotica sì interpellanze approfessione per l'assegnazio per l'assegnazio e per l'assegnazio per l'assegnazio per l'assegnazio del testo unico in enti locali regolamento cosa per l'assegnazio e talifre regolamento per concessione direzze di pagamento terza data interrocazione variante progetto approfondimento per l'assegnazio per l'assegnazio per la realizzazione di un'area polifunzionale corredata da edifici pulivarie un barco attrezzato all'annessato e al commerciale espressione di indirizzo approfessione del piano di organizzazione e lavorazione immobiliare per l'assegnazio di integrazione approfessione del programma di annale per il pubblico 2014 per l'assegnazio per l'assegnazio per l'assegnazio per l'assegnazio per l'assegnazio per l'assegnazio 9-8-3-9-8-5 di Tamarcoe ma l'assegnazio di Amacoronello ci sono interventi chiaramente tutto pubblicato dal proprietorio controfirmato se ci sono i serventi ci sono il posto presidente chi è? io scusate se lei mi permette se non ha c'è lei mi si è e volevo solamente dire che scrivere il modello di valutazione però che non la servizia del 15 di maggio del 2014 penso che io ero presente non presente e quindi tutte invece sono presenti il 2014 si si non ero presente prego grazie presidente semplicemente per in mezzo alla formazione ricordata della pubblicazione della pubblicatoria vorrei sottolineare il nome del nostro programma di ricerca delle delibere consigliare ancora una volta non funziona non permette con l'ausilio dei filtri del programma di ricercare alcun tipo di delibere o magari qualcuna spunta altra no ed è veramente un problema andare a ricercare le delibere questo è un problema annoso veramente sì è stato già segnalato tante volte però è veramente un problema perché non permette l'espletamento del mandato di consigliere se non andando in segreteria ad incolfare il lavoro degli impiegati quindi io pregherei che questo problema fosse risolto una volta per tutti la ringrazio grazie grazie con interventi verbali passiamo alla alla votazione che è favorevole il consiglio approva grazie sì molto grazie adesso abbiamo al secondo punto l'ordine del giorno delle interrogazioni ma visto l'assenza del consigliere il presente consigliere ma si è presentato da tutte e due le interrogazioni mi sta anche l'assenza dell'assessore delegato del sindaco queste interrogazioni vengono rinviate per la destinazione persona prossima come questo è grazie grazie andiamo al terzo punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione dei sistemi di controlli interno su questa tematica pregherei gentilmente la dottoressa Riva se può relazionare così preverte da facendo un aspetto tecnico che riguarda appunto questo regolamento grazie in questo regolamento del sistema dei controlli interno viene portato dall'attenzione del consiglio in esecuzione in approcciamento di una situazione di legge prodotta con il decreto legge 174 del 12 12 poi su 213 che ridisegna la materia dei controlli interno dei compiti del locale rafforzando come sapete con la soppressione dei controlli esterni in particolare la soppressione dei controlli da parte dei corego di sistema di verifica del controllo della regolarità degli ampia internazioni è interamente assegnato di la responsabilità del sistema interno dei controlli di cui fanno parte diversi soggetti gli stessi responsabili dei seguiti il segretario il convento dei divisori in particolare con Antonio tornato di sistema che il legislatore ha utilizzato interno appunto all'ente e che ha il compito di politica che nazionale magistrativa nel suo svolgimento si realizzi nel rispetto delle norme di legge in decreto 164 il legislatore ha ritenuto di dover approcciare il sistema già esistente dei controlli interni meglio specificando quelli già esistenti e introducendo le norme in particolare il controllo nuovo introdotto è applicato dalla responsabilità del segretario comunale ed è il controllo sulla responsabilità successiva agli altri in regolamento dei controlli infatti evidenzia come la prima di controllo prende a posto che va in particolare attiva alla nostra dell'idea sia alle liberazioni che alle detenze e sia assegnato a responsabilità di responsabilità che come voi sapete appongono parelli preventivo irrevalutato tecnica e contatto di persone di esperazioni mentre sulle determinazioni la cioè gli altri stati dai soggetti non pratici non quelli di competenza degli organi politici del consiglio segnali dicevo sulle determinazioni l'attività di medicina del controllo viene assegnata direttamente ai responsabili che adottano l'attività nella fase di medicina che precede l'adozione delle determinazioni di competenza degli organi gestionali per quanto riguarda dicevo il controllo successivo è una tipologia di controllo introdotta con questo testo di legge e prevede un ruolo del segretario comunale che attraverso una verifica campione degli atti adottati successivamente con il controllo successivo alla loro adottazione con il sistema di ragionamento verifica che i simboli atti di la loro conformità alle internazioni e segnalate quando si rivelgono delle irregolarità le misure per collegere le simboli non adottare le tecniche assicurate segnalate anche gli obiettivi competenti e messuali delle irregolarità rilevare il controllo si svolge il controllo successivo su in particolare alcune tipologie di atti il legislatore proprio lei si viva e fa un paio di quello che sarà uno di tutti all'attenzione del consiglio cioè la approvazione degli atti conozione e cioè quegli atti che comportano un bene rispetto degli esbozzi di denaro da parte dell'et sugli appalti sui contratti e come ci sono le tecnologie che già l'implicatore individua come categorie sulle quali appuntare una particolare attenzione quindi un controllo maggiore proprio perché sono gli altri considerati più a rischio come vedremo anche in seme di esame come vediamo la internazione della della politica l'implicatore per lei ci sono gli enti di un regolamento nuovo alla luce di questa recente normativa sulla disciplina di costruzione di sistemi che è oggetto della proposta di libera che è economica l'attenzione del Consiglio questo molto infine di contenuto di questo regolamento grazie per essere un ulteriore strumento operare prego consigliere Cristiano segretario comunale come legislatore oggi sulla posizione del segretario infatti mette diciamo c'è delle responsabilità importanti diciamo che si segue con inter sull'antillegalità e su determinati controlli quindi c'è come le norme diciamo c'è chi sta realmente oggi andando a fare il contrario di quello che oggi stiamo andando ad approvare perché se non il registratore sta verificando per avere un risparmio economico deve stare a tagliare queste impure però da un lato diciamo ci sta dando un elevante importante diciamo in merito a determinati controlli che ci sta dando delle responsabilità di controlli e dall'altro invece diciamo oggi il governo che abbiamo oggi sta cercando di andare a tagliare i fondi diciamo e più ritorno di queste figure qua volevo solamente fare notare come ci sono dei discorsi anche a livello nazionale con queste problematiche grazie ci sono altri interventi della tematica passiamo alla proposta di delibera per la votazione i favorevoli abbiamo 8 favorevoli consiglio approva 4 interità componenti consiglio comunale quanto riguarda questa delica come ben sapete già da una delica del 28 marzo c'era l'altro l'indirizzo organizzato l'equilibrio finanziario per progenare attivato dal consiglio comunale con la delibera numero 71 del 21 dicembre 2013 quindi la intervista principale televisiva adattata ha indicato l'evoluzione dell'intendità di carica del 10% del consiglio comunale dei consiglieri comunali ci sono interventi consigliere ora prego ringrazio tutti il mio voto è favore anche se questa proposta di delibera mi lascia del tutto indifferente in quanto il sottoscritto nella seduta di consiglio del 3 marzo 2014 nella quale veniva investito formalmente della carica di consigliere comunale aveva dichiarato di rinunciare ad ogni tipo di indemnità e di rimborso spese relativa all'espletamento del proprio mandato per cui la presente proposta di delibera come ho già detto lo trova del tutto indifferente pure trattandosi di somme piuttosto esibili in vista del forte significato della propria determinazione ed in particolare momento come quello attuale in cui viene fortemente meno la fiducia dei cittadini sui propri rappresentanti politici il sottoscritto ha deciso di devolvere per intero tutte le somme percepibili a titolo di gettone di presenza ma anche dei rimborsi spese partecipazione istituzionale non banchetti ed ogni altra spesa connessa o connettibile all'espletamento del proprio mandato per la realizzazione e manutenzione di spazi per il gioco dei bambini fa vuole che anche altri consiglieri comunali vogliono aderire all'iniziativa destinato in tutto o in parte il loro gettone di presenza e rimborsi spesa all'iniziativa in parola o ad altre iniziative di pubblica solidarietà pure al fine di poter avvicinare il cittadino alla politica locale in un così alto momento del difficile risorso economico grazie per cui il mio voto è positivo sì grazie consigliere prego consigliere sì presente ringrazio nell'annunciare il mio voto positivo di un proposito io però te la direi che venisse questa sede chiarito qual è il centone di presenza dei consiglieri comunali perché all'esterno soprattutto adesso che abbiamo la fortuna di avere una videoregistrazione della salute non vorrei che si pensasse che i consiglieri comunali prendano chissà quale gettone di presenza vorrei che venisse chiedito l'entità del gettone di presenza l'oldo e il netto e che tra le altre cose non abbiamo alcun diritto a rimborsi spese di alcun tipo quindi noi prendiamo esclusivamente il gettone di presenza soltanto quando partecipiamo al consiglio comunale probabilmente alle commissioni quando si prego di dire esattamente l'imposto per far dire la proporzione che il gettone di presenza è qualcosa di simbologo che magari a noi non permette di pagare la benzina per una settimana ma forse neanche grazie consiglio è chiaro che tutto è ben visibile sul proprietario sul sito istituzionale ecco appunto mi c'era la dottoressa nello specifico la sezione con l'amministrazione trasparente anche perché è un obbligo di legge quindi chiunque può visionare tranquillamente però la proposta nello specifico è di 25 il gettone di presenza 25 euro virgola di centesimi l'olbe quindi a un netto diciamo un banco è la giorniera c'è una percina siamo a 10 euro sì credo che se torno di 15-16 euro niente fa niente per la precisione per essere chiari va bene grazie noi stiamo ultimamente dotati del 10% perché non arrivava benissimo va bene è punto chi è favorevole abbiamo in casa sulla delibera sulla proposta le consiglio approva grazie